siamo qui a savona ci siamo trovati casualmente buongiorno casualmente con andrea tacconi che salutiamo salve salve tutto bene sì tutto bene sì dai periodo un po stressante ma va bene come mai con papà in ospedale sai certo certo però dai sta procedendo bene e sta andando avanti bene allora senti io vorrei salutare tuo padre a nome di tutti i tifosi italiani perché ci teniamo tutti perché nonostante le squadre di calcio siamo tutti veramente tifosi quindi siamo tutti con lui e adesso invece parliamo con te che vogliamo sapere cosa stai facendo io parlo anche a nome della nazionale italiana artisti tv il 24 giochiamo sì il 24 giochiamo quindi se noi ogni facciamo due o tre partite al mese ci divertiamo per beneficenza è sempre bello e cosa fai qua sapona adesso abbiamo una partita di beneficenza con torricelli moreno e san qua tutti uniti per fare del bene come sempre si si fa finta di giocare perché io non giocare un po di anni moreno pure e quindi ci divertiamo di senti per il pubblico tuo padre era un portiere tu invece il portiere portista da padre in figlio da portiere a portiere ho giocato fino a 22 anni voto lazio como reggiana gallipoli poi ho smesso perché ho avuto un infortunio brutto però mi diverto con gli amici a far del bene in giro quindi dai va bene così direi che insomma sei un'attleta sotto tutti i punti di vista sia mentale che fisico allora io ti vengo a seguire più tardi a vedere la partita facciamo anche qualche ripresa così ci divertiamo ok speriamo di non fare brutte figure credo di non l'importante che non giochi io grazie 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 grazie